Buonasera, 25 giugno 2020, siamo qui in diretta streaming in questo evento così straordinario. Buon compleanno alla città e dei due siti UNESCO. Siamo in diretta streaming dall'Atreo Superiore del Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo, qui in Puglia sul Gargano. Buon compleanno alla nostra terra, che ci rende orgogliosissimi della sua bellezza e ovviamente ci rende responsabili per poterla tutelare e poterla valorizzare. Sono proprio queste le parole del sindaco D'Arienzo che avremo tra pochissimo qui con noi. I prossimi appuntamenti, quello del 5 luglio, il cammino dei due siti UNESCO, la passeggiata dal Santuario alla Foresta. Il 7 luglio, buon compleanno a Faggete, serata streaming dalla Foresta con intervento musicale a cura del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. E poi da stasera fino al 7 luglio è stato lanciato un contest dove tutti voi avete la possibilità, attraverso un video messaggio, di fare gli auguri di buon compleanno a questi due siti e ovviamente dovete ricordare l'hashtag, la città dei due siti UNESCO. Vi ricordo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Monte Sant'Angelo Parco del Gargano, Puglia 365, Puglia Events, Longobardi in Italia, canale YouTube del Santuario di San Michele Arcangelo. Prima di iniziare desidero chiamare qui accanto a me il padrone di casa, il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo. Eccolo qui con noi, un attimo che prendo subito il microfono. Buonasera signor sindaco. Grazie, grazie. Grazie, sono onoratissima e felicissima di essere qui con voi questa sera. Ci racconti un po' la storia di come siamo arrivati oggi a celebrare questo bel compleanno di questi due siti della Puglia? Beh, il riconoscimento UNESCO è... I Longobardi in Italia Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO Patrimonio dell'Italia Eredità per il mondo Adesso conosciamo meglio la figura dell'Arcangelo Michele e cerchiamo di capire di più perché i Longobardi scelsero questi luoghi. Ci chiediamo. Prodotto nel 2018 e lanciato dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano C'è una città nel sud Italia Nella meravigliosa Puglia E torna il momento musicale e sono qui i nostri ospiti musicisti Dino De Palma e Gianna Fratta questa volta con un omaggio a Chopin Esatto, unico momento così onirico della serata E queste emozioni che sicuramente raggiungono tutti coloro i quali sono in diretta streaming con noi Sono state adottate delle strategie anche a livello regionale per promuovere il territorio di quello che è oggi un brand Il brand Puglia A voi il video messaggio del presidente della regione Puglia Michele Emiliano Monte Sant'Angelo è la città di San Michele Questa sera abbiamo l'onore di avere qui con noi l'assessore al bilancio politiche giovanili sport della regione Puglia Che poi tra l'altro si trova a casa sua perché lui è nato proprio a Monte Sant'Angelo Diamo il benvenuto all'assessore Raffaele Piemontese Buonasera E per quel che riguarda il contest nei giorni scorsi ci sono già pervenuti dei video messaggi da parte delle istituzioni con la loro visione nazionale A voi il video messaggio del segretario generale commissione nazionale italiana UNESCO Enrico Vicenti Il presidente Enit, Agenzia Nazionale per il Turismo, Giorgio Palmucci Vice sindaco di Brescia e Presidente di Associazione Italiana, Lango Bardoru, Laura Castelletti Un saluto a tutti Siamo giunti quasi addirittura ad arrivo di questa bellissima serata dedicata alla bellezza e alla cultura Desidero ricordarvi i prossimi appuntamenti, quello del 5 luglio Il contest tutti quanti online con foto e video messaggi e l'hashtag la città dei due siti UNESCO Vi do l'appuntamento il prossimo 25 giugno 2021 per il decennale del riconoscimento UNESCO Volevo ringraziare i nostri maestri splendidi, bravissimi, Gianna Fratta e Dino De Palma per averci alietato con la loro bellissima musica Bravissimi grazie E volevo salutare tutti voi che siete in collegamento streaming insieme al padrone di casa Il sindaco D'Arienzo, l'assessore piemontese e il rettore del santuario Insomma, è andata bene questa serata, signor sindaco? Beh, è andata bene e spero che abbiamo lanciato il giusto messaggio Grazie, buona serata, arrivederci alla prossima